...quella che sarà l'inizio di collaborazione con il Salerno Solidale... ...e di tutto per il caro amico, non direi, il tifosissimo della serenità... ...e il capolamore dell'esercito... ...l'inizio di un compasso... ...e di dare il membro di Lino. L'iniziativa avrà stato un risuoto sociale molto importante... ...perché abbiamo cercato di coinvolgere oltre che l'Andos... ...in questi anni ha dimostrato oltre lo sport e lo spettacolo... ...ma soprattutto perché come dicevamo è un memoria... ...un memoria lo devo non dimenticare perché... ...sempre comunque... ...che accomuna sempre un po' tutti... ...e quindi un bellino alla vita al quale potremo presenziare... ...e soprattutto al quale che io potrò... ...speriamo bene... ...ci divertiremo, no? ...portando a questo... ...poi purtroppo so poco perché mi trovo sempre in situazioni... ...non so le dettaglie... ...quindi però è un piacere... ...essere di conoscenza... ...è un piacere... ...due un piacere...